La lotta alle mafie non può avere singhiozzi, deve avere continuità. L'omertà da complicità è più difficile da rompere della stessa omertà da paura. Perché proprio nel silenzio, nella sottovalutazione, nel non comprendere che le mafie si radicano e si radicano anche nella bella provincia pianeta. Noi dobbiamo essere questa speranza, noi dobbiamo essere questo cambiamento. La lotta alla mafia, lo sappiamo bene, è gioia di vita.